Da oggi Valentina, Kira e Kashmir, le tre tigri asiatiche di età tra i 15 e 18 anni circa dello Zoo di Napoli, escono dalle gabbie e potranno essere ammirate in un'area progettata per il loro benessere, di circa 3.500 metri quadri, progettata apposta per ricreare un'ambientazione simile alla loro terra di origine. Un grande traguardo per lo Zoo di Napoli e per le tigri che ora vedono il sole, il cielo, le piante e l'acqua, soddisfatti anche i veterinari che si occupano di questi splendidi animali. Abbiamo deciso di arredare questa gabbia con delle piante che provengono proprio anche dall'areale geografico ideale della tigre e oggi quest'exibit per noi rappresenta non solo la liberazione delle tigri ma anche la nostra liberazione dal fardello della sofferenza di questi tigri che stavano in queste gabbie molto anguste, basate su dei crismi antichi. Ricordiamo che le tigri sono degli animali speciali perché sono degli animali in via d'estinzione e sono in natura dei grandi camminatori, hanno degli areali geografici molto alti. Per questo le dimensioni di questa gabbia sono molto grandi e superano oltre i 3.000 metri e diciamo così che i primi risultati li abbiamo già avuti. Le tigri hanno assolutamente apprezzato, sono delle tigri che già da qualche giorno si comportano in maniera diversa, esprimono la loro gratitudine esplicando finalmente una volta per tutte quelle che sono le loro azioni fisiologiche quotidiane.